Ciao, io sono Licia e io Yolana. Abbiamo un grande sogno. Vogliamo rendere il nostro comune, Ortignano-Raggiolo, un paese green e artistico. Siamo solo 800 abitanti e vorremmo valorizzare il nostro territorio in maniera innovativa, dando spazio ai giovani. Ci troviamo a Ortignano, nella Valle del Casentino, un territorio davvero unico in provincia di Arezzo, in Toscana. Vogliamo dare la possibilità a tutti di creare arte, video, fotografie, musica e non solo, per promuovere e raccontare esperienza in questo piccolo paese. Abbiamo iniziato questo progetto con il Bed & Breakfast, la casa d'artista. Qui, in casa nostra, abbiamo personalizzato tutto con l'arte. Alberi, bosco, fiori, farfalle, ogni stanza è unica. E soprattutto, nelle camere, i famosi quadri magici, che hanno una sorpresa, ma non vi diremo quale è. Dovrete venire a scoprirlo da voi. Questo è il circolo Arci Ortignano, che abbiamo trasformato a tema. Tutte le stanze con materiale riciclato. In questa stanza, vediamo, campo di fiori. In questa altra, c'è un bosco autunale con tanti animali. E uno, abbiamo anche, vero, il nostro mascot, 30! 30! Di fronte al circolo, il murale di Ortignano racconta il nostro progetto nelle varie stagioni, che ho dipinto pensando a ciò che abbiamo di speciale. Ma non finisce qui. Così abbiamo creato anche un laboratorio per riunire tutte le arti, tra cui musica, fotografia, pittura, artigianato, teatro, video, una sala cinema, insomma, un luogo per liberare la creatività. Per questo, siamo diventati un progetto di volontariato, in cui tutti possono contribuire con le proprie capacità, la propria passione o arte. Ospitiamo ragazzi da tutto il mondo attraverso il sito Worldpackers, sia per aiutarci, sia per fare un bellissimo scambio culturale. È un'esperienza davvero incredibile. Con entusiasmo si mettono in gioco per creare insieme a noi questo progetto. E a livello umano ci lasciamo davvero molto. Ora è come se avessi tanti figli sparsi nel mondo. È vero! Tutti e tutti sono diventati parte della famiglia, e ci siamo divertiti tantissimo insieme. Cerchiamo persone che vogliono contribuire a rendere Ortignano Rangiolo un posto speciale. Vogliamo far vivere un'esperienza unica a tutti coloro che verranno a trovarci. Vi aspettiamo! Ciao! Ciao!